Ecco qua il mio foro, ecco il mio vermicello, andiamo sul foro, si inserisce dentro e poi cerchiamo di sfilare l'attrezzo lasciando dentro i vermicelli. Ecco che il lattice va a sigillare il foro sui vermicelli e il copertone, i baffi li possiamo lasciare lunghi se non abbiamo niente da tagliare e lo faremo poi a casa da tranquilli, si schiaccia un po' sul copertone e voilà, si gonfia la ruota e via, si parte di nuovo.